Il focus dell'app WorkMaps è quello di raggiungere rapidamente le offerte di lavoro in tutta Italia scegliendo la regione che ci interessa, per esempio scegliamo la Toscana e poi da questa pagina andando a vedere la provincia di nostro interesse per vedere tutte le offerte di lavoro che ci sono in quella provincia. Una volta raggiunta la WorkMap della provincia ci possiamo muovere molto comodamente da qualsiasi parte della pagina con la bussola che ci porta al segnalibro della pagina e da qui scegliamo l'argomento che ci interessa in questo momento. Per esempio andiamo a vedere le agenzie di lavoro in provincia di Firenze cliccando sul nome delle quali possiamo raggiungere le offerte di lavoro di quell'agenzia aggiornate a questo momento perché sotto c'è il link diretto alle offerte di lavoro per esempio di Adecco in provincia di Firenze aggiornate a questo momento quindi senza dover fare nessuna ricerca. Se poi vogliamo tornare al menu segnalibro riclicchiamo sulla bussola e per esempio possiamo andare a vedere i concorsi. Ancora riclicchiamo sulla bussola e possiamo andare a vedere un altro argomento di nostro interesse come per esempio l'Info Giovani dove troveremo relativamente a tutte le province d'Italia l'Informa Giovani, Garanzia Giovani, Centro Impiego, i finanziamenti delle varie regioni in questo caso della regione toscana per le start up dei giovani, l'Agenzia regionale del lavoro, la finanziaria regionale della regione che dà finanziamenti anche a tassa agevolato per l'inizio di attività imprenditoriali e poi c'è anche una panoramica sul servizio EURES per cercare lavoro in tutta Europa quindi con i referenti delle singole regioni del servizio EURES la commissione UE dove si può chattare direttamente nei vari paesi membri della comunità europea con un addetto che parlerà in lingua italiana per farci trovare lavoro in un altro paese della comunità europea e poi c'è anche un video tutorial con tutti i passaggi burocratici per trovare lavoro in uno dei paesi della comunità europea questo tutorial è scaricabile da questa applicazione ci sono poi tutta una serie di utilità che ci possono tornare comode in molte occasioni per esempio cliccando qui si può andare a questa parte dell'applicazione in cui si possono scaricare 20 modelli di curriculum già impostati da qui possiamo andare ai link a 8 siti per cercare lavoro da casa come freelance abbiamo anche 26 siti per utilità varie per svolgere dei lavori sul computer quindi per esempio ce ne sono 8 per realizzare video senza essere professionisti 9 per realizzare oggetti grafici senza essere professionisti poi ce n'è uno per la riduzione della pesantezza delle immagini e tante altre utilità e da questa scritta in giallo guadagni al minuto possiamo raggiungere una piattaforma su cui ci possiamo iscrivere gratuitamente e sempre gratuitamente possiamo essere contattati dagli utenti per svolgere il nostro lavoro e quindi per fare consulenze online se sono un avvocato uno psicologo un medico ma anche un docente ma anche un consulente aziendale oppure se il mio lavoro non mi permette di fare consulenze online posso semplicemente mettere lì il mio curriculum personale o della mia attività imprenditoriale come vetrina come vetrina sul web delle cose che so fare o della mia attività professionale è inoltre possibile scaricare gratuitamente dei corsi di formazione professione data entry quindi per imparare a mettere i dati dentro un software che è scaricabile dal sito un corso per fare le indagini di soddisfazione del cliente con un software che è scaricabile dal corso la presentazione powerpoint rapida con tutto il sistema già preimpostato con i link di slide che sono già tutte collegate e la configurazione della pagina facebook della propria attività professionale o commerciale la piattaforma su cui sono collocati questi corsi una volta al mese consente di fare un coupon gratuito per riscatti illimitati che dura però solo tre giorni ora per esempio siamo agli inizi del mese e andiamo a vedere per esempio questo corso qui oggi è il 2 ottobre 2020 questo coupon scade il 4 ottobre e come vedete il corso in questo momento è acquistabile gratuitamente quindi ci si iscrive per sempre a questo corso senza nessuna scadenza senza limiti per il suo svolgimento in questo momento gratuitamente quindi bisogna controllare un attimo l'applicazione i primi giorni del mese abbiamo infine la possibilità di scaricare un database con 33.711 indirizzi mail di scuole pubbliche dove nei campi excel troviamo regione, provincia, comune, indirizzo, tipologia di scuola e indirizzo email e poi anche la possibilità di pubblicare gratuitamente degli annunci in tutte queste categorie comprese le categorie del cerco e offro lavoro in più abbiamo i gruppi whatsapp, gli affitti e altre tipologie di annunci ovviamente gli annunci possono essere pubblicati tutti gratuitamente abbiamo anche infine la funzione degli avvisi nel senso che nelle pagine regionali e nelle pagine provinciali dell'applicazione si possono pubblicare degli avvisi per altri utenti oppure leggere degli avvisi che altri utenti hanno inserito per esempio che c'è un concorso al ministero grazie a tutti